Deviato in calcio d'ancolo un altro bell'intervento del portiere ospite, ha fatto una bella parata. Calcio d'ancolo a favore della Virtus Castelfrentano. Rete ha segnato, Alex Maramieri porta a tre il risultato fino a questo momento, Virtus Castelfrentano tre, Rapino Calcio zero. Fino adesso i tre marcatori nostri sono stati il primo gol, l'Arnè Emanuele, il secondo Riccardo Delbello e adesso Alex Maramieri. Grazie. 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 Grazie.